buonasera io e le mie tenute da scappata di casa ormai allora la mia tosse è la mia sigla ufficiale allora dicevo stasera storia del paranormale e voglio parlare del filone dei tudor riguardanti il più famoso di loro ovvero enrico ottavo perché lo metto nella storia del paranormale perché intorno alle storie collegate a enrico ottavo anche se di per sé lui a parte la maledizione e qualcos'altro poco c'è ma partiamo dall'inizio allora enrico ottavo ha avuto sei mogli lo sanno anche le pietre tra l'altro avevano fatto da poco da poco con la cosa che io non guardo la televisione non so mai quanto tempo è passato ma che avevano fatto togliamo il da poco la la serie sui tudor molti l'hanno vista in chiave romanzizzata romanzata se la leggete sui libri di storia la leggete in chiave storico culturale come ve la racconto io la capite anche dal verso paranormale a cosa serve capirla anche da quel verso semplicemente a capire e a collegare tutte le altre nozioni che si apprendono che cerco di dare via dicendo proprio nel mondo del paranormale nel mondo dell'occulto nel mondo dell'oltre nel mondo della magia e chi più ne ha più ne metta partiamo dall'inizio enrico ottavo non sarebbe nemmeno dovuto salire al trono perché il re ufficiale era suo fratello maggiore che salì effettivamente al trono o meglio non salì al trono però era il principe ereditario e si occupava già di questioni di stato fino a molto giovane c'è da dire però una cosa antecedente il casato dei tudor non era in linea diretta per l'ascendenza al trono in inghilterra c'erano altre due famiglie precedenti reali New York e Lanchester che avevano il diritto di successione ma per svariati motivi politici e per la mancanza di eredi maschi a continuare la discendenza salirono al trono i tudor salì al trono Enrico VII successe questo siccome Enrico VII fu un re che sapeva bene manovrare le basi del suo governo e sapeva bene come mantenere le regole del gioco in mano sin da quando gli nacque il primo figlio appunto il legittimo erede al trono decise che lo avrebbe sposato con una discendente diretta dei Lanchester e quindi della famiglia reale precedente che aveva il diritto al trono di modo da rendere effettivo il diritto al trono d'Inghilterra per i tudor la regina Isabella di Castiglia aveva avuto delle figlie femmine la prima fu Isabella chiamata come la madre la seconda Caterina la famiglia di Isabella e di Caterina e in generale comunque i regnanti di Spagna i regnanti del Portogallo, i regnanti di Aragona e di Castiglia erano personaggi un po' particolari nella storia dei regnanti di Spagna ci sono un sacco di fatti particolari e strani legati o meno alla religiosità e al paranormale uno di questi fu la figlia maggiore di Isabella di Castiglia appunto Isabella anche lei che nonostante la madre, quindi Isabella la vecchia diciamo fosse estremamente cattolica, estremamente cristiana avesse addirittura avviato l'inquisizione del 1400 in Spagna e avesse osannato la religione cattolico cristiana fino a livelli estremi la figlia Isabella era di tutt'altra opinione narra che, narra la leggenda mai comprovata perché comunque stiamo parlando del 1500 che Isabella, la figlia avesse doni medianici tanto da appunto aver conosciuto, aver interagito con l'entità e pertanto aver capito che la religione era solo una fuffa questo non scese mai al groppo della madre ma una volta venuta a mancare la madre Isabella prese il trono di Castiglia il padre si auto abdicò in favore della figlia e si autoproclamò però amministratore reggente di Castiglia proprio a causa del fatto che il papato in quel periodo era sotto a papa mi pare Giulio II e la chiesa aveva un potere spropositato in Europa appunto agli anni dell'inquisizione e la cultura dell'epoca non permetteva di conoscere a fondo una caratteristica come la medianità o come altre doti come altre capacità extraumane ma essendo lei comunque la regina legittima di Castiglia venne internata come pazza e rimase internata per tutta la sua vita 46 anni internata 46 anni passarono dal momento in cui venne internata tutto il tempo internata come pazza e le redini del regno di Castiglia passarono al padre nuovamente che faceva da amministratore alla situazione anche se non era più il re questo era per dire semplicemente che la dinastia dei regnanti di Castiglia avevano avuto nel loro interno che ruotavano intorno a quelli che oggi noi chiamiamo doni alla medianità e ad altre caratteristiche la seconda figlia appunto di Isabella di Castiglia che si chiamava Caterina Caterina d'Aragona poi verrà chiamata in collegamento al padre che era d'Aragona andò in sposa come previsto al primo figlio legittimo erede al trono di Enrico VII lei aveva mi pare sui 13 anni e lui 15 o entrambi 15 dunque erano lì aspettarono proprio i 15 anni per poterli far sposare sfiga vuole perché comunque la famiglia Tudor non è mai stata molto fortunella che dopo neanche 5 mesi dal matrimonio entrambi i coniugi si presero una malattia un'influenza particolare che ricorda un po' tutte le altre influenze a stragi della storia e veniva chiamata un'influenza migliare cioè portata dal miglio la presero entrambi però il giovane era il trono morì di questa influenza mentre invece Caterina d'Aragona si riprese si riprese e sopravvisse il problema però di stato burocratico era che essendo vedova dell'erede al trono sarebbe dovuta tornare alla famiglia d'origine e il padre del defunto avrebbe dovuto risarcire tutta la sua famiglia tutta la sua come si chiama dote tutta la sua dote che era stata mandata insieme a lei per il matrimonio con il figlio e questa cosa a Enrico VII non scendeva inoltre c'era anche la questione sempre del voluto legame con la famiglia di Castiglia quindi Enrico VII penso bene essendo ormai vedova di darla in moglie al nuovo erede al trono che sarebbe stato e avrebbe preso il nome di Enrico VIII il suo secondo genito Enrico VIII all'epoca era molto giovane e Caterina d'Aragona aveva un 5 anni in un 6 anni più di lui quindi se lei ne aveva 14 facciamo lui ne aveva ancora 8 era impensabile farli sposare quindi il fidanzamento si prolungò oltre i 7 anni dopo 7 anni di fidanzamento a tira e molla nel quale il re d'Aragona pretendeva quasi il rientro della figlia perché vedeva che sto matrimonio comunque non si celebrava c'erano un sacco di problematiche l'età che contava parecchio e tutto il resto alla fine invece riuscirono a farli sposare da lì comincia il dramma di Enrico VIII dramma o meglio dietro le quinte di tutta la situazione delle 6 mogli di Enrico VIII e delle sue varie 8997 amanti si nasconde un semplicissimo e scientifico comprovato caso di impotenza Enrico VIII riusciva ad andare a letto con la moglie nei primi tempi in cui questa gli faceva un particolare effetto ma subito dopo la situazione degenerava quindi lui mosso dalla voglia di dimostrarsi in qualche modo un uomo andava a cercare altre persone altre donne che in qualche modo lo riportassero in vita è questa la base di tutte le porcate che ha fatto Enrico VIII Catarina d'Aragona era una donna estremamente intelligente cattolica per convinzione come la madre fece subito capire alla corte inglese che non era così facile manipolarla come invece aveva pensato il suocero Enrico VII all'inizio con Enrico VIII si dice abbia avuto sei figli tutti morti o di parto o a pochi giorni a poco tempo poche settimane dalla nascita l'unica che sopravvisse fu Maria Maria d'Inghilterra appunto Maria D'Udor che poi fosse realmente figlia di Enrico VIII o meno non ci è dato saperlo comunque Caterina d'Aragona era ufficialmente la regina d'Inghilterra nel momento in cui Enrico VII tirò lo zampino e salì al trono Enrico VIII lei divenne ufficialmente la regina d'Inghilterra Enrico VIII cercava comunque il figlio maschio perché l'Inghilterra aveva ancora la legge per la quale era il primo diretto discendente maschio a poter salire sul trono dopo un toto di tempo che stava con Caterina e che probabilmente non lo portava più a quegli istinti maschili che lui che lui bramava tanto iniziò a puntare la dama di compagnia di Caterina stessa la più famosa delle sei mogli di Enrico VIII Anna Bolena era una dama di compagnia era una persona di cui non si sa ancora adesso di preciso neanche la data della nascita perché aveva un po' delle dubbie origini anche se le mascherarono come origini nobiliari l'Inghilterra però era cristiana e il papato all'epoca ancora sotto il papa Giulio II non accordava il divorzio come tuttora succede la chiesa cristiano cattolica non ammette il divorzio agli occhi del suo Dio ma Enrico VIII voleva sciorinarla e voleva sposarsi a tutti gli effetti Anna Bolena anche perché Anna Bolena giocando di suo gli aveva fatto intendere che comunque non sarebbe stata completamente sua fin quando lui non l'avrebbe sposata non l'avesse sposata allora in quel frangente Enrico VIII decise di togliere l'Inghilterra dal cristianesimo o meglio dal cattolicesimo non dal cristianesimo e di creare per la prima volta nella storia dell'Inghilterra la religione protestante il protestantesimo luterano che era quello a cui fa riferimento proprio questa religione di Enrico VIII era capitanata da lui stesso quindi era il re a comandare su questa religione nuova mettendosi sotto alla sua nuova religione inventata e creata ad hoc riuscì a dichiarare il divorzio da Caterina d'Aragona che comunque non venne uccisa o cose che poi succederanno in seguito invece alle altre mogli ma venne semplicemente allontanata e venne mandata in un convento cattolico visto che ci teneva tanto Caterina d'Aragona fino alla fine dei suoi giorni si proclamò per sempre l'unica regina d'Inghilterra e gran parte del popolo che era rimasto cattolico e che era rimasto fedele a lei stava dalla sua parte lì comincia la prima maledizione dei Tudor perché dico maledizione perché la nazione dell'Inghilterra era sotto al dominio appunto di Enrico VIII dei Tudor e quando lui scelse e cercò di distaccare la religione cattolico-cristiana dalla sua nuova creata protestante cristiana utilizzò come spediente anche un vecchio tratto della Bibbia sulla Bibbia narra una parte che se un uomo sposerà mai la vedova di suo fratello questa coppia sarà destinata a non avere figli che poi in realtà non era vero perché Maria Tudor era nata e anche gli altri anche se poi erano morti poco dopo ma Enrico VIII utilizzò questo cavillo biblico manco fosse stato un avvocato di grido di Milano per riuscire a convincere il Papa che quel matrimonio andava annullato che non s'era da fare ma il Papa ci ha detto trasi presa motati e da lì scoppiò il macello andiamo avanti riuscì a togliersi dai piedi Caterina d'Aragona anche con poca solidarietà da parte del popolo che comunque vedeva sempre in Caterina la vera regina d'Inghilterra e sposò secondo il rito protestante Anna Bolena la regina dei mille giorni Anna Bolena durò tre anni ma Enrico VIII non sapeva come togliersela dai piedi nel frattempo aveva incontrato il suo filo d'argento la terza moglie non ricordo come si chiamasse o un lapsus comunque la terza moglie di Enrico VIII fu il suo filo d'argento e la passione che provoca il tuo filo d'argento non ha pari nessuno ragiona più con la testa lucida in certi frangenti a meno che non sia proprio una persona estremamente pacata e razionale e razionale cosa che Enrico VIII non era di sicuro date anche le sue problematiche psicofisiche non sapendo come potersela cavare e poter sposare la terza moglie decise decise di incolparla di stregoneria dichiarando che lei lo aveva ammaliato con delle magie per farsi sposare di tradimento all'ulterio dichiarando che era stata vista pagando testimoni con altri uomini dichiarando altresì giusto per calcare di più la scena che addirittura l'avevano scoperta a letto persino con suo fratello di sangue quindi anche incesto insomma venne messa a morte Anna Bolena aveva una figlia con Enrico VIII anche lei sempre ammesso che l'abbia avuta con il re ma una figlia ce l'aveva avuta ed era Elisabetta prima quella che poi diventerà la grande Elisabetta d'Inghilterra Elisabetta anche intorno a Elisabetta gira un mistero che non è da poco nel momento in cui Anna Bolena dopo mesi di carcerazione venne portata al patibolo perché la sua morte la sua condanna a morte era stata dichiarata per decapitazione nel momento in cui salì sul patibolo maledì tutti i figli che Enrico VIII avrebbe avuto e che aveva avuto e lo intimò che in ogni caso alla fine di tutto sua figlia sarebbe diventata regina d'Inghilterra proprio utilizzando parole di maledizione gli disse visto che mi accusi di essere una strega allora sarò realmente una strega e mia figlia sarà la diretta discendente erede al trono si parlava di Elisabetta dopo pochi minuti Anna Bolena fu decapitata fu decapitata e Enrico VIII il giorno dopo stesso prese la figlia Maria avuta dal precedente matrimonio con Caterina d'Aragona prese la figlia Elisabetta che all'epoca aveva tre anni tre anni e mezzo le sbatté con delle balie in un castello di provincia e sposò immediatamente il giorno dopo stesso il suo filo d'argento che porta miseria e mi sfugge il nome la terza moglie comunque ve la cercate su google e la trovate non è che a me posso ricordare tutti i nomi e tutti i cognomi della storia e alle solite io non mi preparo mai le cosette a parte qualche poesia qualcosa che voglio recitare che allora magari non me la ricordo ma se no non mi piace prendere appunti appunto era il suo filo d'argento il suo filo d'argento gli diede il tanto sospirato figlio maschio ma a pochi mesi dalla nascita no subito subito dopo la nascita si ammalò di febbre puerperile non riesco mai a dirlo io puerpero mi inceppo con la lingua mi si annoda e e lei la regina il suo filo d'argento la sua terza moglie morì di febbre lui cadde in una depressione sconvolgente fin quando non incontrò la sua quarta moglie anche lei Caterina no Anna Anna non mi ricordo non mi ricordo neanche lei come si chiamasse di cognome comunque quelle a venire sarebbero state questa Anna poi un'altra Caterina poi un'altra Caterina perché lui aveva tanta fantasia tutte Anne Caterina tranne il suo filo d'argento che aveva un altro nome che poi me lo cerco giusto per curiosità perché non me lo ricordo anche con questa questa quarta moglie dopo un po' siccome era lui a non funzionare ma nessuno lo avrebbe mai dichiarato anche se Anna Bolena aveva raccontato poco prima di essere incarcerata proprio dell'impotenza di suo marito e quindi in Inghilterra era una cosa abbastanza discussa nel vociferare di corte venne mandata al patibolo anche la quarta moglie la quinta moglie Caterina morì di influenza credo ora non ricordo comunque morì senza dare grosse cose alla storia l'ultima l'ultima Caterina fu quella che poi rimase al fianco di Enrico VIII fino alla fine e fu la più diplomatica la più infelicente e quella che non si fece né cacciare via e né far fuori ogni volta che si trovava in una discussione con il marito per la quale aveva da rivendicare qualcosa e lui si incaponiva dicendo perché mi porti sempre a discutere lei gli rispondeva semplicemente perché mi piace tanto come discuti però e siccome lui era un narcisista del cavolo e anche un pochettino idiota secondo me c'è cascava fu lei non avendo figli a far riappacificare Enrico VIII sia con Maria Tudor Maria Dragona Maria Tudor e sia con la figlia Elisabetta fino a renderle eredi al trono in seconda e terza opposto in scala lineare dopo il figlio maschio avuto dal filo d'argento la storia sembrerebbe finita se non fosse che dietro a Elisabetta c'è ancora un mistero si narra non si sa se sia vero o meno che la vera Elisabetta morì poco dopo essere stata bandita dal palazzo per un'influenza e che la governante presa dal panico a dover dire a un re come Enrico VIII che faceva ghigliottinare le sue mogli tagliargli la testa bollire i cuochi perché un cuoco l'aveva fatto bollire vivo in quel capiazza stargli a dire guarda mi è morta tua figlia di influenza non era proprio cosa fattibile e simpatica quindi narra la leggenda che questa governante abbia seppellito di nascosto Elisabetta ormai morta e abbia preso al suo posto una persona un bambino della stessa età di Elisabetta che ci assomigliava maggiormente quindi con i capelli rossi e con i tratti molto simili che poi si penserà essere un nipote illegittimo stesso di Enrico Ottavo quindi figlio di un figlio illegittimo di Enrico Ottavo imparentato lui era sicuro perché i tratti somatici erano gli stessi ammesso che sia esistito ma era maschio e da lì è sorta poi la leggenda che per me tanto leggenda non è che Elisabetta in realtà fosse un uomo prova o perlomeno indizio che questa storia della sostituzione fosse vera la dà nel 1864 un parroco un prete che avendo preso in custodia la diocesi del paesino dove erano stati 400 anni prima mandati in esilio le due bambine le due ragazze trovò nel terreno una piccola bara con dentro il corpo di una bambina di circa 9-10 anni con indosso un abito proprio dello stile Tudor e questo ha rafforzato l'ipotesi che la vera Elisabetta fosse morta se fosse stata un uomo o meno non si sa Elisabetta non si sposò mai venne nominata la regina vergine e ci furono tante altre condizioni particolari della sua vita che però adesso sforo i 30 minuti e non posso raccontare quindi per Elisabetta continuerò alla prossima storia del paranormale vi do la buonanotte qua sotto come al solito ho tutti i miei link dove mi trovate i libri dove li trovate dove sono in giro per il web tra l'alai trilli e sto sforando di brutto quindi ciao ciao